Buonasera, sabato 12 settembre e benvenuti all'appuntamento con informazione di Telestense. Naturalmente l'aggiornamento quotidiano per quanto riguarda i nuovi contagi a Ferrara salgono con tre nuovi ricoveri anche all'ospedale Sant'Anna, calano invece lievemente in regione. Poi naturalmente parleremo di scuola, l'avvio è previsto per lunedì 14, che cosa succederà nel caso in cui gli alunni con febbre restano a casa, come si ritorna a scuola? Vedremo quali sono le norme, anche perché è prevedibile pensare che con l'apertura delle scuole insomma il numero dei contagi proprio per la ricerca dei tamponi, dei test sirologici messi in campo sta aumentando, è probabile che salirà. Poi parleremo di politica, la politica con il referendum, questa mattina in piazza anche a Ferrara e Movimento 5 Stelle per spiegare ai cittadini il perché del sì per quanto riguarda la riforma per il taglio dei parlamentari e poi la vicenda del caso Coccinelle con i commenti molto duri dopo appunto la decisione del tribunale di una condanna dell'ex presidente della cooperativa. E poi parleremo anche della Camera di Commercio di Ferrara perché insomma è sempre più vicino l'accorpamento con Ravenna, sentiremo la posizione del presidente Govoni del perché del no appunto questo accorpamento e insomma parleremo poi anche di arte con due donne molto conosciute a Ferrara al vertice delle direzioni di musei importanti a Roma e a Bologna. Però allora dicevamo apriamo subito parlando dell'emergenza coronavirus perché sono aumentati rispetto a ieri i casi di nuovi contagi a Ferrara nella provincia estense, 12 di cui 4 di rientro dall'estero. Tre persone invece sono state ricoverate nelle ultime 24 ore al Sant'Anna di Ferrara nei reparti Covid. In regione callano i casi lievementi dei nuovi positivi alla SARS-CoV-2, sono 138 rilevati però con circa 10.000 tamponi effettuati. Purtroppo si registra un decesso nel bolognese. Vediamo allora un po' il punto. Sono 12 nuovi casi di contagio al coronavirus SARS-CoV-2 rilevati a Ferrara provincia, inseriti nel bollettino epidemiologico provinciale di sabato 12 settembre a fronte di 434 tamponi totali effettuati. Su 12 nuovi positivi, 4 sono rientri dall'estero, 2 dall'Albania, 1 dal Libano e 1 dalla Romania, 4 individuati in quanto contatti di casi già noti e 4 a seguito di tampone in presenza di sintomi. 6 sono residenti a Ferrara, 3 a 100 e 1 massa fiscaglia. Da registrare ci sono però anche 3 nuovi ricoveri in reparto Covid all'ospedale Sant'Anna di Cona. Si tratta di una persona residente a 100 e 2 persone residenti a Ferrara. Sono 35 invece le persone entrate in isolamento nelle ultime 24 ore, 54 quelle uscite, mentre non si è registrato nessun decesso. In Emilia-Romagna si registrano a fronte di quasi 10.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 138 casi di positività al coronavirus, un dato in lieve diminuzione rispetto a quello di ieri. Di questi, spiega la regione, 66 risultano asintomatici, 29 sono i casi di rientro dall'estero, 12 da altre regioni. Al momento del tampone 57 persone erano già in isolamento, l'età media dei nuovi positivi oggi è di 40 anni. Quanto al numero dei guariti, questo sale a 25.067, 40 più in rispetto a ieri, mentre va registrato purtroppo un decesso in provincia di Bologna di un uomo di 78 anni con patologie pregresse. Dall'inizio dell'epidemia sono 33.363 i casi di positività rilevati. Per quanto riguarda l'ultima giornata, il maggior numero si registra nelle province di Bologna e Ravenna. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi a oggi, sono 3.827, un centinaio in più di ieri. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 3.658, 86 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 17, uno in meno rispetto a ieri e ricoverati negli altri reparti Covid. Sono aumentati di 12 unità, 152 in totale. E lunedì si ritorna a scuola tante le domande, soprattutto per la gestione di eventuali casi o focolai di SARS-CoV-2. Come comportarsi per la riammissione in aula dopo un'assenza per malattia? Arrivano i chiaramenti della Regione e dell'Ufficio Scolastico Regionale. In caso di Covid-19, l'alluno rientrerà con attestato del Dipartimento di Sanità Pubblica di Avvenuta a Guarigione. Per sintomatologie non riconducibili al virus, non è richiesta né la certificazione medica né l'autocertificazione. Ne sentiamo però tutti i particolari nel servizio. Sono 548.176 gli alunni che arrivano a 620.000, se si contano anche gli istituti paritari, che lunedì 14 settembre sono pronti a sedersi nuovamente sui banchi nelle oltre 25.000 classi delle 500 istituzioni scolastiche presenti in Emilia-Romagna. Ma cosa succede dal 14 settembre in poi se un alunno rimane a casa per più giorni con febbre, malessere o altre indisposizioni? Lo chiariscono la Regione con l'Assessorato delle Politiche per la Salute e l'Ufficio Scolastico Regionale attraverso un documento che è stato inviato ai dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici e responsabili della sanità pubblica, pediatri, medici di medicina generale di tutto il territorio regionale. Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l'allontanamento dalla scuola di un alunno o l'assenza per più giorni in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, potranno verificarsi due situazioni. Se si sospetta un caso di Covid-19, il pediatra o il medico valutano se richiedere, con le modalità in uso nella propria azienda sanitaria e territoriale, l'esecuzione del tampone diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica avviserà il referente scolastico Covid-19 e l'alunno rimarrà a casa sino alla scomparsa dei sintomi e all'esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento in merito alla riemissione in comunità. L'alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di Sanità Pubblica di avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta o il medico, una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. Nel caso invece di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2015, non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica né autocertificazione della famiglia. Ora la politica con il referendum costituzionale, le elezioni si terranno, naturalmente le consultazioni si terranno il 20-21 settembre, questa mattina in tantissime piazze dell'Emilia-Romagna, il Movimento 5 Stelle ora o mai più, questo è lo slogan delle ragioni del sì. I 5 Stelle grillini naturalmente erano in piazza anche a Ferrara. Sentiamo Tommaso Mantovani, esponente storico grillino e consigliere di opposizione in comune a Ferrara. Votiamo sì perché è il primo segnale, finalmente, verso una democrazia diretta che in parte è solo, in parte deve superare la democrazia rappresentativa, cioè il Parlamento, come diciamo da anni, non deve essere una casta di intoccabili. Questo potrebbe proprio essere un segnale in questo senso, tagliare 345 parlamentari vorrebbe far capire che per snellire l'iter democratico c'è bisogno che tutti facciano un sacrificio, tra cui anche i parlamentari perché secondo noi sono un po' sovradimensionate le due Camere italiane. Allora abbiamo eminenti costituzionalisti, anche Onida, la dottoressa Carla Sarre e anche lo stesso Zagrebelsky che dicono che invece un taglio di circa un terzo dei parlamentari non costituisce assolutamente un vulnus né alla democrazia e nemmeno alla Costituzione. Per cui è una questione, come diceva Arcesilao di Cirene, 2500-400 anni fa, ogni cosa ha due manici, dipende da dove la vogliamo prendere o da una parte o dall'altra. Per cui secondo noi è tutto regolare, tant'è che nell'iter questa legge, questo taglio ha avuto quattro votazioni, due alla Camera e due al Senato, per cui ci fa anche un po' specie che alcuni adesso che in Parlamento hanno votato per il taglio adesso proclamino il no a questo referendum. Per cui secondo noi è semplicemente un iter che sta andando avanti, finalmente con questo taglio costringeremo i parlamentari a mettere mano a una nuova legge elettorale che è quello, questo è solo il primo passo, è un tassello per questo puzzle e la legge elettorale a firma del deputato Brescia è già depositata, è già in bozza, quindi è per questo, siccome dovranno cambiare i collegi e le circoscrizioni, cambiando il numero, saranno costretti a varare finalmente, senza ciurlare troppo nel manico, una nuova legge elettorale. Perché si parla del rapporto tra i parlamentari e i cittadini che vengono espressi. Rimarremo anche dopo questo taglio di 345 nella media europea, noi passeremo dallo 0,9 all'1,1 e ricordiamo ancora che questa rappresentanza poi è espressa anche dai consigli regionali e poi quello che conta non è la quantità, perché in realtà il lavoro parlamentare è attraverso le commissioni e adesso abbiamo delle commissioni alla Camera e al Senato che arrivano fino a 40-45 persone. Non crediamo che siano in grado di portare avanti un buon lavoro, un iter legislativo snello e veloce. Per cui abbiamo un terzo di parlamentari che in questo momento non lavorano neanche in una commissione. Vogliamo un Parlamento più snello, più motivato e secondo noi, se si sbloccano anche le liste, ogni partito avrà un numero un po' inferiore per poter, che ne so, cedere alla tentazione del clientelismo. Per cui secondo noi selezionerà meglio i propri candidati, siamo ottimisti. Lo dico ancora una volta, il taglio dei parlamentari va visto in un contesto di una nuova legge elettorale. Non è il taglio in sé per un rimborso che può essere alto, basso, secondo i punti di vista. È solo il primo passo per arrivare finalmente al varo della legge elettorale. E sono oltre 3 milioni gli elettori, gli Emiliano-Romagnoli, che il 20 e il 21 settembre sono chiamati alle urne per il referendum. Nelle stesse giornate però sono chiamati al voto anche gli elettori di 15 comuni, Emiliano-Romagnoli per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Tra questi comuni c'è anche Bondeno e Comacchio. 1.700.000 donne ed 1.600.000 uomini. Sono oltre 3,3 milioni gli Emiliano-Romagnoli chiamati alle urne per il referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. L'appuntamento elettorale, che doveva svolgersi il 29 marzo scorso, rinviato per il lockdown causato dall'emergenza Covid-19, sarà la prima volta alle urne per quasi 18.000 giovani Emiliano-Romagnoli, diciottenni alla data delle votazioni. I seggi, suddivisi in oltre 4.500 sezioni, di cui uno quarantino ospedaliere, saranno aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio per il referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti. Per il referendum non è previsto alcun quorum. Il risultato è valido qualunque sia il numero dei votanti. Sulla scheda di colore azzurro ci sarà una sola domanda e sono previste solo due risposte, sì o no, al seguente quesito. Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 240 del 12 ottobre 2019. Per le amministrative sono chiamati alle urne anche gli elettori di 15 comuni per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Al voto quasi 180.000 elettori di 8 province. Non si vota in nessun comune della provincia di Rimini. I seggi, suddivisi in 223 sezioni, sono aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio martedì 22 settembre alle ore 9. Tra i 5 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ci sono Bondeno e Comacchio. Si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, quindi eventuale turno elettorale supplementare domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Ci sono limiti che non possono essere travalicati, lo diciamo con il pianto nel cuore. Leggere quelle ignobili strumentalizzazioni del vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi e del sindaco Alan Fabri che mette il like per attaccare il consigliere del PD Aldo Modonesi fa letteralmente ribrezzo, molto più ribrezzo di quello che si legge, si può immaginare. E' netta la posizione di Ilaria Baraldi, vice capogruppo del PD che a nome del gruppo consigliere del PD interviene contro il duro commento del vice sindaco e del like su Facebook del sindaco Fabri in merito alla condanna in primo grado di Paola Coluzzi, moglie di Aldo Modonesi, consigliere comunale del PD per illecita influenza sull'assemblea della cooperativa, poi fallita le coccinelle. Baraldi in un lungo intervento pubblicato anche sul nostro sito sottolinea come il tirar fuori le vicende di un congiunto per attaccare un avversario politico sia meschino, spiega alcuni aspetti relativi alla vicenda che risale ai tempi dell'amministrazione italiani e ribadisce la vicinanza al collega e alla sua famiglia perché, conclude Ilaria Baraldi, solo con l'umanità e la civiltà si può rispondere a disgustose strumentalizzazioni. Arriva anche il commento di Paola Peruffo, nelle vesti di consigliera comunale in passato sono intervenuta con alcune interpellanze per cercare di far luce sui rapporti che legavano il comune di Ferrara e la cooperativa Coccinelle. Certamente non sono stati gli unici atti di approfondimento richiesti su una vicenda sfociata come abbiamo visto nelle aule di tribunale, eppure esistono dei limiti di correttezza che a mio avviso è bene rispettare Paola Peruffo, consigliere di maggioranza e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, interviene così, smarcandosi un po' dai toni utilizzati dai colleghi di maggioranza sulla vicenda appunto della cooperativa Coccinelle. In primo luogo c'è il garantismo che considero un principio indiscutibile, spiega Peruffo, nessuno può essere considerato colpevole sino a sentenza definitiva, c'è il tema delle responsabilità che nel caso del diritto penale sono personali, e infine, continua Peruffo, c'è un lato che attiene all'umanità. Personalmente la prassi di mettere l'avversario alla berlina va a discapito del rispetto ma anche delle opportunità di confronto serio per quello che dovrebbe essere il bene comune, conclude la consigliera di maggioranza e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ferrara. Una vicenda che continuerà certamente a far discutere dal punto di vista politico. Ora parliamo di un'altra vicenda che fa discutere per altri aspetti, cioè quello dell'accorpamento della Camera di Commercio di Ferrara con quella della Camera di Commercio di Ravenna. Da lunedì potrebbe arrivare un commissario per l'ente camerale di Largo Castello, il decreto costo infatti azzera gli organi in vista di questo accorpamento con l'ente camerale di Ravenna. Una riforma alla quale la dirigenza di Largo Castello si oppone. Le ragioni di questa contrarietà ce le spiega ai nostri microfoni il Presidente Paolo Govoni. In particolare con questa riforma che io non esito a definire scellerata delle Camere di Commercio, in cui la nostra Camera di Commercio, che è una Camera di Commercio virtuosa, con i bilanci in ordine, che continua a erogare alle imprese molto più denari di quante altre Camere di Commercio molto più grandi danno alle loro imprese, rischia di essere vanificata semplicemente, e questa è la nostra colpa secondo alcune oscure Camere romane, perché ha meno di 75.000 imprese iscritte. Quindi noi non contestiamo la riforma in generale, contestiamo una riforma che oltre a essere iniqua è completamente avulsa dalla realtà. In particolare in un momento come questo, in cui c'è bisogno del massimo sforzo possibile, tutti insieme per supportare il sistema economico e la comunità. Due donne del mondo della cultura e dell'arte ferrarese, molto note in città, Francesca Capelletti e Maria Luisa Pacelli, sono tra i 13 nuovi superdirettori di musei, biblioteche, parchi e archeologici italiani scelti da una commissione scientifica internazionale resi notti oggi dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Francesca Capelletti è stata scelta per ricoprire il ruolo di direttrice della Galleria Borghese di Roma, già componente del Comitato Scientifico della prestigiosa istituzione culturale della Capitale. La Capelletti ha una lunga esperienza di studio, ricerca e formazione all'Università di Ferrara, dove insegna storia dell'arte dei paesi europei. Maria Luisa Pacelli, storica dell'arte, è stata per molti anni direttore delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, responsabile scientifico e organizzativo delle mostre che la Fondazione di Ferrara Arte organizza per conto del Comune e Palazzo dei Diamanti, anche in altre sedi. Entrambe, impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico ferrarese, si sono distinte in questi anni per avere dato impulso alla vita culturale della città, collaborando con istituzioni pubbliche e private. Ora la SPAL, dopo il Ponte D'Era e il Centro GB Fabri, ha ospitato ieri l'amichevole con la Vis Pesaro guidata da Galderisi, altra formazione militante in Serie C. Secondo test per la SPAL, che è priva di Bonifazi, Paloschi, Mazzocco, Viviani e Salomon, vince per 2-0 contro la Vis Pesaro, esordio per Sernicola, tra i pali si rivede Beriscia. Buonasera mister, innanzitutto un giudizio sui tre giocatori che sono arrivati dal Sassuolo, che abbiamo visto hanno debutato questo oggi, poi anche oggi la partenza, se non andiamo errati con la difesa 3, 3-4-2-1. Sì, abbiamo giocato in questa maniera, chiaramente per ora siamo lontani, diciamo dal punto di vista fisico di quello che dobbiamo essere, anche se manca poco, però ancora abbiamo lavorato tantissimo, credo che abbiamo fatto in 21 giorni qualcosa come 35 allenamenti, insomma alla fine si pagano, però nello stesso tempo c'è la voglia di soffrire, abbiamo incontrato una squadra, anche se di categoria inferiore, però che lavorano dai primi di agosto ed erano abbastanza pimpanti. Noi ancora abbiamo da lavorare, da migliorare, però al di là dei ragazzi che hanno giocato per la prima volta oggi, il resto, diciamo, stiamo cercando di codificare determinati movimenti, ecco, quindi il lavoro che si sta facendo a poco a poco deve dare frutti che noi vogliamo. Le condizioni di Missiroli, che tipo di infortunio ha accusato? No, si è spaccato la testa, abbiamo fatto sei punti oggi, tre in lui e tre in campo. Salomon dovrebbe riprendere la prossima settimana, col gruppo ha avuto un po' di affaticamento, Paloschi deve fare i controlli strumentali per capire se si può aggregare i primi giorni della prossima settimana, è quello che ci auguriamo. Diciamo sugli esterni, bene o male ci siamo, anzi forse siamo numericamente, stiamo bene, magari centralmente, ecco, mancando qualcuno, come in questa fase, Paloschi, rimane solo Flocker, e quindi lì sicuramente cercheremo magari qualche giocatore che possa essere utilizzato sia come attaccante centrale, sia come attaccante esterno, che sia diciamo più attaccante che tornante, perché come esterni, diciamo esterni d'attacco ne abbiamo, però che abbiano anche il fiuto del gol, che hanno sistematicamente l'attacco alla porta potrebbe essere anche utile, però diciamo che tutto dipende dall'evoluzione del mercato, soprattutto dalle uscite. Allora, chiudiamo qua il nostro TV giornale per tutti gli aggiornamenti, vi ricordo il sito, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie.